ciao questo nuovo video che il solito rifaccio sui film che volevo dedicare questo video questo film che può avere anche i suoi anni che è uscito nel 88 che volevo fare il suo video a questo film che si chiamano sferato a venezia che come stavo dicendo che come il film dell 88 che 2 1 e 35 che in totale sono quei 97 minuti che la regia di questo film e di questo augusto camminito che è il solito film horror che come paese di produzione è italiano che come registi c'è anche Klaus Kinski e Maurizio Lucidi che gli volevo dedicare questo video sul mio canale a questo film che oltre a essere horror magari può toccare anche il genere drammatico che come si dice che come film è stato distribuito qua in italia dalla medusa film che la trama proprio dei film parla che la patrizia veneziana Elietta Canis invita nella società dei doghi uno studioso inglese paris catalano esperto in vampirismo che la donna vuole che venga a cessare per come si dice ci sai per sempre quell'atmosfera occupa di leggende e di orrori che ancora grava sul suo palazzo dove vive con la nonna e la giovanissima sorella Maria che due secoli prima infatti mentre a venezia una sua ava era stata vittima del vampiro con cui colui svanita nel nulla che nei sotterrani del palazzo tutto a esiste un misterioso sarcofago cercato di ferro ed è lieta pensando che uno sferato sia proprio là dentro in vita paris a eliminare a eliminarne sempre i resti che il vampiro evocato in una seduta spiritica piomba a venezia mentre scoperchiato il sepolcro si scopre che il corpo dell'ava letizia stranamente somigliante a elietta ma stanna stanare ed esercizzare non sferato si rivela un'impresa impossibile sia a sacerdoti sia a paris sia a giuseppe barnabo l'amante di elietta che una dopo l'altra le vite le vittime si susseguono uccisi dai morsi fatali che muoiono la donna la nonna di elietta di questa elietta che quest'ultima è gloria barnabo sorella di giuseppe che uno sferato appare e scompare inattaccabile inattaccabile perfino dalle fucilate e in più sedute che malgrado le sue fattezze agli occhi delle donne e che egli vampirizza che contagia e sa fare sa fare all'occorrenza e suscitare che egli sa di poter essere liberato e morire a una sola condizione quella d'essere amato da una fanciulla vergine che e maria è la prescelta ma proprio nell'attimo in cui non sferato sembra conseguire il suo massimo obiettivo in una villa fatiscente sull'isola dei cani in laguna barnabo arriva sul posto spara ancora una fucilata lasciando indenne il mostro e ferendolo mortalmente e ferendo mortalmente la ragazza che dopo essere essersi vendicato l'uomo non sferato vampirizza maria e portandola tra le braccia lascia venezia verso un comune atroce destino che più che altro la trama del film era questa qua che a farla breve non sferato sepolto a venezia durante la peste del 1700 si sveglia a causa di di una seduta spiritica e semina terrore tra gli aristocratici discendenti della sua antica amante che la trama di sé di questo film era questa qua che visto che non gli aveva ancora come si dice dedicato ancora un video lo volevo portare sul lo volevo portare sul sul mio canale che come al solito vi lascio tutte le le informazioni di questo film sotto in descrizione tra il video trailer cast degli attori che hanno partecipato e si riesco a trovare qualche altra informazione più trovate tutto sotto in descrizione che come stavo dicendo prima il solito film horror che come si dice più che altro la trama magari in sé del film era questa qua che in totale sono due a un'ora e trentacinque che come ho detto prima la durata del film è di 90 97 minuti e niente che più che altro quello che che potevo dire su su questo film l'ho già detta che al massimo come ho detto prima trovate tutte trovate tutte le informazioni che riesco a trovare sotto in descrizione e niente al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao